Un'interpellanza per fare luce attorno ai fatti di Avezzano e della Marsica, cercando di ottenere risposte e risultati di inchieste e indagini da portare avanti rispetto ovviamente ai decessi che ci sono stati. La risposta è stata molto deludente. In questa interpellanza noi non abbiamo strumentalizzato i fatti, ma al contrario abbiamo chiesto chiarezza di quello che è avvenuto e soprattutto volevamo sapere e chiediamo ancora quali sono le proposte per quanto riguarda l'emergenza da mettere in campo subito. Ora non abbiamo avuto risposte né in un senso né in un altro e da questo punto di vista abbiamo richiamato il Governo regionale alla coerenza rispetto a quello che è stato proposto e approvato in giunta, ai programmi tanto sbandierati da un lato e agli atti esecutivi e gestionali che per quanto ci riguarda mancano e le file quotidiane. I fatti di cronaca che abbiamo ricordato anche in questa interpellanza lo stanno a dimostrare. Un ultimo elemento che abbiamo voluto sottolineare è la richiesta di chiarezza. Non si può dire un giorno prima che tutto va bene, il giorno dopo che tutto è saturo in termini di posti letto, il giorno dopo ancora dire abbiamo numeri per rimanere in zona gialla, la sera si diventa zona arancione, quattro giorni dopo addirittura si avanza dalla Regione la richiesta per la zona rossa. E il senso che qualcosa sfugge di mano è che non c'è chiarezza nella comunicazione e quando c'è un'emergenza occorre essere chiari con i cittadini. Anche l'ordinanza fatta attorno alla zona rossa sul mondo delle scuole per come è avvenuto ha davvero sottolineato che in qualche elemento di questo Governo regionale davvero siamo di fronte a dilettanti e lo sbaraglio. Grazie. Grazie.